Ragazzi, non mi pido. Torniamo a casa. Ma di cosa hai paura? Non ci succede niente, piccone. È vero, neanch'io mi fido. Andiamo a casa che non più cosa basta, non so. Va bene, mi avete convinto. Cosa ci fai con questo preo? Vieni amico, lasciatelo stare. Ma che cosa avete fatto? Al segno. Tu prova a dirla a qualcuno e io ti ammazzo, hai capito? Va bene, starò zitto. Ma allora lasciami stare. Ehi, hai avuto notizie di Gioele? No, da quando è partito non ho saputo più nulla. Attenti di terra, di mare, dell'aria, camicie nere della rivoluzione e delle legioni, uomini e donne d'Italia, dell'impero e del regno d'Alvalia. Ascoltate! Scusa, arrivate una cazzina per te. Ma mai quella faccia non sarei mica felice perché è iniziata la guerra. Ma cosa dici? Ho ricevuto notizie di Gioele. E sta bene, ma ti rendi conto? Scusa, arrivate una cazzina per te. 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 Scusa, arrivate una cazzina per te.